Ed eccoci qua ragazzi, come promesso nel video in cui vi farò vedere il boss da battere in questo Mayhem Brawler. Però dovete capire chi è, se mi seguite con attenzione e che mi ascoltate. Avete visto chi è? Non mi freghi più Vlad. Quindi tu che mi sventoli una spada davanti alla faccia, un semplice conflitto, falla finita con i paroloni. Dov'è il dispositivo del caos? Fammi indovinare, prima dobbiamo combattere, vero? E infatti combattiamo. Vediamo di sconfiggere voi Voda. Ma stiamo attenti perché voi Voda ha una spada molto grossa e affilata. Dobbiamo completare questo sesto livello alternativo di Mayhem Brawler. Perché in questo gioco i boss hanno sempre tre barre della salute? Sconfitto, eliminato, abbiamo finito. Ora iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Arrivederci a tutti. Grazie per avermi seguito. Continuate così. Grazie. Grazie. Grazie.